Il primo luglio a Tons Teatro Natura una maratona di fantastico jazz. Ospiti d'eccezione, tre tra i migliori artisti italiani. Il trombettista Fabrizio Bosso, la cantante Simona Bencini e il pianista Ramberto Ciammarughi. Un evento che vede la partecipazione di 17 jazzisti legati all'ossola per una serata che si preannuncia assolutamente imperdibile. Dalle 18 alle 24, Tons Teatro Natura.